Voi siete il cuore della Chiesa. Papa Francesco richiama le parole di Paolo VI nel corso della sua storica visita al campo Roma di Pomezia, 50 anni fa, nella quale spronò la Chiesa all'impegno pastorale verso questo popolo. Accogliendo in Vaticano 7000 gitani, il Pontefice ricorda il numero crescente di vocazioni tra di loro e li invita ad essere ancora di più testimoni di trasparenza evangelica. Ma ci sono soprattutto i bambini nel cuore di Francesco che conosce le periferie romane dove vivono i Rom e quindi le loro condizioni precarie che contrastano col diritto di ogni persona ad una vita e a un lavoro dignitoso, all'istruzione e all'assistenza sanitaria. Non vogliamo più assistere a tragedie familiari in cui i bambini muoiono di freddo o tra le fiamme o diventano oggetti in mano a persone depravate, afferma il Papa. I giovani e le donne sono coinvolti nel traffico di droga o di esseri umani. C'è poi l'invito a Roma di favorire la scolarizzazione dei figli, di costruire periferie più umane, di essere buoni cristiani senza falsità, truffo, imbrogli, liti. All'istituzione Papa Francesco chiede l'impegno di garantire adeguati percorsi formativi per i giovani gitani e la possibilità per le famiglie disagiate di beneficiare di un adeguato inserimento scolastico e lavorativo. Che si volti pagina, è arrivato il tempo di sradicare pregiudizi secolari, preconcetti reciprochi e diffidenze che spesso sono alla base della discriminazione, del razzismo e della xenofobia. Nessuno si deve sentire isolato. Nessuno è autorizzato a calpestare la dignità e i diritti delle altre. Grazie. Grazie. Grazie.